Ciao amici, bentornati sul canale Il giornalismo del cuore. Se è vero che oggi è Chiara Ferragni a rappresentare una delle donne più seguite su social, con milioni di persone incollate al suo profilo Instagram, è anche vero che ci sono altri componenti della famiglia ad aver accresciuto in maniera considerevole la propria posizione sul web No, non stiamo parlando di Fedez, che anche nel tempo ha assunto delle connotazioni banchiare sotto il punto di vista social, ma anche sociale nel senso lato del termine Tante volte, infatti, il cantante milanese si è espresso su tematiche molto serie, che l'hanno posto in maniera netta al centro dell'attenzione Valentina Ferragni.Oltre a Fedez, infatti, c'è un'altra persona vicina a Chiara Ferragni che ha riscosso il grande consenso del pubblico internauta. Stiamo parlando di Valentina Ferragni, la sorella più piccola di Chiara Lei è la più giovane della famiglia Ferragni, ma non per questo è stata rintanata in una posizione minore rispetto alla sorella Certo, non raccoglie attorno a sé gli stessi numeri dei Ferragni, ma al tempo stesso Valentina è riuscita a costruire una sua posizione molto netta sulle piattaforme social Si è laureata a diverso tempo fa all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in linguaggi dei media, un aspetto che evidentemente ha contribuito ad alimentare le sue conoscenze nel campo dei media Nella sua tesi di laurea, tra le altre cose, proprio Valentina ha trattato l'influenza sulla società da parte dei social blogger Un aspetto molto interessante, che tra l'altro riguarda da vicino proprio sua sorella Chiara Valentina Ferragni, ancora un problema di salute, la foto su social Valentina Ferragni.Questi sono stati anni molti intensi anche per Valentina che, va detto, fino ad ora non ha avuto alcun tipo di ruolo predominante nel mondo dello spettacolo Al tempo stesso, però, è monitorata da tantissime persone su social In tanti si sono preoccupati per lei anche nel corso delle ultime ore A destare timore, infatti, una foto pubblicata dalla stessa Valentina che mostra un qualcosa di particolare La piccola Ferragni, infatti, è vittima di un'infezione all'occhio Non esco mai con gli occhiali, ma qualche volta, lo 0,1% delle volte, mi piace, ha spiegato Valentina su Instagram, svelando anche il motivo per il quale a questo giro si è dovuta rendere all'utilizzo degli occhiali Le ho dovute togliere, le lenti a contatto, NDR, perché ho un occhio che ha una piccola infezione e quindi non posso usarle per qualche giorno, le parole di Valentina Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video, fino a quando ci incontriamo nuovamente